Spike, hai fatto un ottimo lavoro catturando quelle scimmie. Credo che non ce ne siano altre. Grazie, professore. Sembra che siano sempre più intelligenti. Attenzione, attenzione. Abbiamo rilevato una serie di eventi mai riscontrati prima nel nostro database. Si ritiene possa trattarsi di un'invasione aliena. Alieni? Un'invasione? Sembra che la causa sia un tipo di forza. Senza ulteriori dati possiamo solo ipotizzare che sia opera di Spectre. Spectre? Non possiamo più attendere altre informazioni, Spike. Se c'è dietro Spectre l'intero pianeta potrebbe essere a rischio. Sai, cosa devi fare? Pronto, professore? Mi spiace, ma posso darti solo queste armi per catturare le scimmie. Va bene così, professore. Non mi serve altro. Cosa stai facendo? Era quasi finito. Lay off him, Spike. He's just a little monkey. Quelle scimmie cercano di impadronirsi del pianeta. It looks like he's just having fun to me. Don't you like having fun? A me piace salvare il mondo. E che mi dici di te? Stai lavorando con Spectre? Spectre? Who's that? I'm working with Chop Chop Master Onion. I don't think he's trying to take over the world. Yet. Beh, non ho intenzione di attendere per scoprirlo. Spike, sei tornato. Iniziavo a preoccuparmi. Temevo non ci saremmo mai più visti. È bello essere tornati, professore. Ho visto delle cose. Non ne ho intenzione, Spike. Abbiamo delle notizie. Lo stesso vale per me. Ho combattuto contro tutti, fino al burattinaio. Ma non è stato... Spectre, lo sapevo. Io e Charu non siamo certi di dove tu sia stato. Ma da allora rileviamo una vera invasione aliena. Navi da guerra si dirigono verso tutte le grandi capitali del mondo. Allora Spectre è davvero tornato? Bene. Sono pronto ad affrontare lui e i suoi alieni, le sue scimmie o qualsiasi altra cosa. Da dove iniziamo, professore?